Aprire e chiudere, gialli e arancioni, è una scelta che sta nevrotizzando l'Italia e rischia di allungare l'epidemia anziché fermarla. A dichiararlo oggi il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca che ha preso parte questa mattina all'inaugurazione della nuova ala della Pinacoteca provinciale. 200 metri quadrati restituiti al patrimonio culturale ed artistico della città di Salerno ma anche l'occasione per rilanciare il sud attraverso la cultura. Su questo aspetto il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca si è soffermato anche sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal premier Mario Draghi. Dovremo combattere a detto De Luca per promuovere un'immagine più moderna ed efficiente del sud. Il presidente Draghi ha fatto affermazioni importanti per la dignità dell'Italia, ha rivendicato il ruolo di grande potenza culturale ma che dovremmo ragionare molto sulle politiche nazionali relative al mesogiorno d'Italia. Dobbiamo uscire da una lettura vecchia del sud fatta solo di camorra e di delinquenza organizzata e di inefficienza e dobbiamo spiegare a tutti che il sud di oggi è fatto anche di grande concretezza amministrativa e di un mesogiorno che è in grado di reggere la sfida dell'efficienza nei confronti di qualunque altra regione d'Italia. Poi dovremo combattere per avere le risorse necessarie per gli investimenti e per i nostri figli e su questo non c'è ancora nessun impegno da parte del governo quindi avremo modo di discutere anche con Draghi. Nel frattempo dobbiamo fare attenzione all'epidemia Covid che galoppa perché la scelta fatta dal governo di aprire e di chiudere è una scelta che sta stressando l'Italia, sta nevrotizzando i cittadini italiani e rischia di prolungare l'epidemia anziché accorciarla. La scelta delle zone gialle significa semplicemente questo che per un mese ci si rilassa, tutti immaginano che l'epidemia sia alle nostre spalle dopodiché ovviamente come ampiamente prevedibile si ritorna in zona arancione, in zona rossa. E' molto probabile che torniamo ad essere arancioni? Assolutamente sì, ma credo che abbiate visto anche voi le immagini di questi fine settimana migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade, nessun rispetto delle regole lei ha visto la chiusura di bar, ristoranti dopo le 18 e chi controllava? Qui ormai il controllo in Italia non esiste più, nessuno controlla più nulla dovremo contare solo sul senso di responsabilità dei cittadini ma in questi fine settimana che abbiamo alle spalle di senso di responsabilità ne abbiamo visto molto poco quindi era inevitabile ritornare in zona arancione e poi in zona rossa per quello che ci riguarda stiamo lavorando per procurarci i vaccini necessari perché in tutto questo il dato drammatico è che non abbiamo i vaccini necessari questo è il limite più grande che registriamo nella politica nazionale anti-covid la Campania sta lavorando con una manifestazione di interesse per reperire qualche milione di vaccini sul piano internazionale senza fare propaganda sgangherata noi utilizzeremo vaccini soltanto dopo l'autorizzazione dell'EMA e dell'AIFA cioè delle agenzie di controllo sanitario perché parliamo di salute della gente quindi bisogna fare operazioni molto serie e molto meditate dal punto di vista sanitario